Ancora violenza su una donna. Un brutale femminicidio. La 28enne aggredita con l'acido. Carica e la relazione burrascosa. A tra leggi... Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa t'aspettavi da grande e non è tardi per ricominciare? E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire. Cambia le tue stelle e se ci provi riuscirai. E ricorda che l'amore non ti spara in faccia mai. Figlio mio ricorda bene che la vita che avrai non sarà mai distante. Dall'amore che dai. Ricorda di disobbedire. Perché è vietato morire. Ricorda di disobbedire. Perché è vietato morire. Perché è vietato morire. Vietato morire. E per sentirsi grandi questi uomini hanno bisogno di sottomettere le proprie compagnie. Che siano moglie o fidanzate. E lo fanno con la violenza psicologica. O con quella fisica. A volte con quella sessuale. E anche con quella economica. Perché le facce della violenza sono diverse. E anche con quella che si tratta di disobbedire. Grazie per la visione!